Ciao amore, come stai? Allora, ascolta, ho messo tutte le foto delle nostre vacanze su internet, sono bellissime. Ma tu dove sei? È da ieri che ti lascio un messaggio e non rispondi. Ma sei vivo? Signor Quota, la chiamo dall'ufficio. È da quattro giorni che non si presenta al lavoro e il direttore vorrebbe sapere qual è il motivo della sua assenza. Amore mio, dove cazzo sei? Messaggio funzionale. La vostra ricarica stringi, ora anche se spurtitrata. Stringitrata, la vita scorre meglio. Buongiorno, facciamo un sondaggio a qualche minuto di posizione. Quale trasmissione televisiva le ha fatto trascorrere più tempo davanti allo schermo? Qual è la sua squadra preferita? Per chi ha votato nelle ultime elezioni nazionali? Preferisce le bionde o le brune? Signor Quota, se non porto una motivazione valida, si ritenga licenziato. Che opinione ha sull'omosessualità? Quando è stata l'ultima volta che ha pianto? Che posizione ha riguardo la pena di morte? Quando è stata l'ultima volta che ha fatto l'amore? Pensa che usciremo dalla crisi economica. Cos'è per lei la felicità? Stefano, dove cazzo sei? Brutto stronzo, rispondi. Ti sto cercando dappertutto, mi devi rispondere. Non mi puoi trattare così. Ultima domanda. Crede in Dio? Crede nella bioenergia? Quanti anni ha? Che tipo di cellulare ha? Cosa mangia? Ama il prossimo? Non si può giocare con la nostra pazienza. Non siamo più bambini, non si può. Visto, vestiti, stesso, crede in se stesso, mangia, spinta, beve, torne, talo giù è uguale per tutti, è bellissimo, dorme, scopa, scusate bene. Ora con la nuova ricarica String 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 String, la novità per tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.